segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma io posso dire prima di tutto per prevare un ricordo e cioè quando ero corrispondente di guerre in vietnam in vietnam c'è stata la prima rivolta dei giornalisti americani contro le autorità americane a un certo punto sono stato avvertito dai colleghi americani che loro non sarebbero mai più andati al rapporto dei generali in particolare era il tempo del generale westmoreland perché le cose che venivano dette dai generali ai giornalisti erano false e una volta diventate articolo sui loro giornali in america erano la trasmissione di notizie false da allora non c'è mai stata per gli ultimi due anni la partecipazione dei giornalisti americani alle sedute di informazione dei dei militari ed è da quella e da quell'evento che è nato quello strano cosa che il giornalismo il giornalista embedded così è comparso nella guerra successiva al vietnam è comparsa la figura del giornalista embedded il quale doveva stare con un reparto ed essere il giornalista e il reporter di quel reparto e dei soldati e comandanti di quel reparto e quindi la fiducia che si può avere nella nelle notizie militari è bassissima la guerra è una portatrice di menzogna e ce lo dimostra una guerra che se possiamo dire più tradizionale e più antica come quella tra l'ucraina e la russia ci dimostra che ogni fonte è inficiata di ragioni propagandistiche o di ragioni organizzative e dico di qualche tipo e non e che quindi meritano pochissima pochissima fiducia e allora abbiamo questa foto caro furio dei grandi giornalisti come come cremonesi e che ci danno un esempio sta abbastanza straordinario di 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 giornalismo audace e sincero detto ciò non è il giornalismo che in questo momento attraversa il mondo e non è da quel giornalismo da un numero sufficiente di forze in quel giornalismo che ci giungono le notizie che ci arrivano esse sono tutte modificate e guidate dagli interessi di coloro che compiono le azioni che poi vengono raccontate quindi allora furio torno subito da te marrazzo vedi il punto è ansiogeno anche dal punto di vista della qualità delle notizie allora la